Musica Benvenuti ragazzi, benvenuti sul mio canale con questo nuovo video del martedì Oggi siamo qua con un gameplay davvero assurdo che però vi porto a malincuore Perché mentre faccio questo commentary so che appena finito dovrò andare a leggere multiple pagine di due libri d'italiano E quindi è davvero uno strazzo, avrei dovuto farlo durante le vacanze Ma non credo che a voi importi molto di tutto ciò Comunque ragazzi, vi introduco la partita, è un nuclear assurdo fatto in 87 secondi Utilizzando il M27 con caricatore rapido, eserzione rapida e calcio regolabile I perks erano inflessibili, sciacallo e destrezza e avevo un C4 in infiltrazione tattica Comunque ragazzi, come potete vedere, stavo giocando in Spawn Trap sulla bandiera di Adi I giochi in dominio veterano, questo perché? Perché portare a termine un gameplay appunto di livello alto Come d'altronde lo è questo, sotto gli 100 secondi appunto un nuclear È quasi necessario, se non appunto indispensabile, giocare in Spawn Trap Comunque, forse alcuni di voi avranno già visto questo gameplay sul canale del GTF Clan Però credo che, essendo appunto il mio nuclear più veloce e anche il più bello Credevo fosse necessario portarlo, però appunto Arricchire anche il mio canale, dare anche al mio canale un gameplay così bello Alla fine ragazzi, stavo per morire davvero in un modo davvero davvero fastidioso Perché mi arriverà il nemico da sinistra sparandomi Io fortunatamente con un dropshot riuscirò a cavarmela Ero in gruppo da 6, però come potrete vedere perderemo anche la bandiera di C Quindi diciamo un gruppo da 6 anche abbastanza improvvisato Che mi ha aiutato sì, però in alcuni momenti della partita poteva anche agire meglio E magari rendere il mio nuclear un po' più veloce Comunque ragazzi, qua il video sta già giungendo al termine Spero che vi sia piaciuto, se così vi invito a lasciare un mi piace, un commento Se non lo siete ancora, iscrivetevi al mio canale Comunque ragazzi, qua arriva il nuclear, per oggi da Milano è tutto e bella